Io ho sposato Francesco Totti per amore, non per soldi, e l'ho sempre dimostrato mettendoci la faccia. Mia sorella mi chiama dicendo che aveva conosciuto Francesco e mi racconta che voleva conoscermi. Avevo 19 anni e lui era già Francesco Totti. Mi porto da mia madre, abito alla casa accanto. Ilari non è la donna sdolcinata che ti fa le carezzine. Diciamo che il primo abbraccio me l'ha dato circa dopo 7-8 anni. Siete disposti nella nuova via del matrimonio ad amarvi e onorarvi null'altro per tutta la vita? Sì. Erano molto molto divertenti, un po' Sandra Raimondo. Allo stesso tempo Ilari comincia a fare più carriera. Era un vanto per me anche a scuola, insomma, avere la mia sorella famosa. A fine gennaio andiamo a cena. A un certo punto comincio, diciamo, a notare un marito diverso. E dai lì. Un disastro. Ti devo abbracciare adesso. A chi credo? Ai giornalisti o a mio marito? 20 anni che frequento una persona, penso che ti fidi di quello che ti dice. Secondo me c'aveva ragione Francesco. C'aveva ragione in che senso? E' stata la prima, il primo passo. Mio marito mi vedo strano. Perché? E che ne so. È stata sancita la definitiva rottura. Io non potevo credere che l'uomo che è stato accanto a me per 20 anni, metà della mia vita, avesse fatto una cosa del genere. Io non potevo credere che l'uomo che è stato accanto a me per 20 anni.